Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto illuminazione Dinasun LG 1200 Kit. Dinasun Kit LG 1200 Illuminatore Professionale LED-Light 5400K bilanciato lampada LED-Light 5400K a luce continua con potenza regolabile con due X filtri a lette laterali para luce integrate ideale e supporto cavalletto stativo per studio di registrazione video e studio fotografico a descrizione l'illuminatore. Bilanciato Dinasun LG 1200 OLED utilizza ben 1200 LED per il suo funzionamento ad una temperatura di 5400K. Questa temperatura e accento acuto equivalente ad una luce D-Light, quindi produce una luce meravigliosamente morbida. La qualità della luce prodotta, rispetto agli illuminatori a fluorescenza e accento acuto particolare, grazie alla disposizione della luce emessa di 30 da ciascuna delle 1200 luci LED. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione. Grazie. 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 Grazie.